Restiamo in Parlamento con un'intervista al deputato milanese Marco Rondini sul provvedimento per l'introduzione del reato di omicidio stradale. L'Associazione Vittime Incidenti Stradali è tornata a chiedere l'introduzione del reato di omicidio stradale dopo i numerosi casi delle ultime settimane che hanno visto automobilisti colpevoli di aver causato la morte di tanti innocenti. Un appello raccolto dal deputato di Milano della Lega Nord Marco Rondini che ha presentato un progetto di legge con pene più severe e la certezza del carcere per chi provoca incidenti mortali. L'attuale normativa di fatto non riconosce il dolo in chi uccide una persona guidando magari un'autovettura sotto l'effetto di alcol e o stupefacenti. Con i numeri alla mano noi sappiamo che la maggior parte degli atti di pirateria che per il solo anno del 2012 si aggirano intorno al migliaio e che hanno provocato la morte di centinaia di persone e il ferimento di un migliaio di persone. Beh, molti di questi incidenti causati da pirati della strada sono stati compiuti da persone che erano sotto l'effetto di droga o di alcol. Ancora una volta il governo fa orecchie da mercante e rimanda un provvedimento determinante per la sicurezza dei cittadini come l'istituzione del reato di omicidio stradale, ha continuato Rondini. Si tratta di una legge necessaria, dice richiesta da tutti i cittadini e in particolare dai parenti delle vittime. Basti solo pensare che negli Stati Uniti 42 stati su 57 riconoscono l'omicidio stradale e il tasso alcolemico tollerato e di gran lunga inferiore rispetto a quello previsto dal nostro codice della strada. Noi chiediamo quindi fortemente, raccogliendo l'invito dei parenti delle vittime e non solo, anche da parte, e l'invito portato avanti anche dalle associazioni che rappresentano la polizia stradale, e di introdurre nel nostro codice penale questo reato. Questo perché riteniamo che ai parenti delle vittime debba essere data una risposta, una risposta in tempi rapidi. e senza affidare, come avviene oggi, la discrezionalità al magistrato di decidere se applicare o meno la pena massima a chi si macchia di questo che è un vero e proprio omicidio.